Ciao, oggi faremo un video bellissimo. Sei contenta Irene? Vuoi sapere qual è il video? Vediamo chi ha gli addominali più forti. Facciamo la gara degli allunghi, quelli che si fanno prima della kippa. Ok, allungo e ritorno, allungo e ritorno. Vediamo chi è capace e chi ne fa di più. Non ho sentito, Emma. Non fai mica l'equip tutti i giorni, scusa. Ci siamo? Vai, chi parte? Chi parte? Ma perché vi nascondete? Vabbè, andiamo. Dai, vieni Martina. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, guardate che se tocca stoppo è sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, 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 quattordici per Martina. Rosa, sei pronta? Vieni. Vai. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sei per Rosa. Irene. Vai, Irene. Vai, Irene, trenta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, uh, sette, otto, nove, nove per Irene. Difficile sta sfida, eh? Difficile o facile, Irene? Già, più che difficile è faticosa, no? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, sedici, sedici per Giadi. Ma vi hai detto che tocca il tappeto e non l'hai tolto? Sì, mi sono dimenticata. Sedici per Giadi. Chi va? Debbie. Cioè, la Giada non ha mai rimontato i polsi, hai notato? Sì, ho visto che ho fatto scelto anche giù. Hai fatto tutto un giro con la mano? Uno, due, tre, quattro, cinque, dai Debbie, sei, sette, otto, rimonta dietro, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti. Brava Debbie. Venti per te... Cosa c'è Debbie? Emma, il numero da battere, venti. Uno, due, tre, brava Emma, quattro, mantieni il ritmo. Cinque, sei, mantieni il ritmo, sette, otto, nove, dieci, sei a metà. Undici, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto... No! Sai che pensavo che da un momento all'altro mollassi le mani e ti sedessi? Erika, vediamo. Uno, due, Erika, tre, Erika, quattro, cinque, sei, si sta riprendendo, sette, otto, nove, dieci, undici, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, sono un po' piccolini, diciassette, diciotto, diciannove, venti, venti per Erika, ma possiamo dargli così venti? Vai, letizia, letizia, 50, vai! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, allungati bene, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, trenta, trentuno, trentadue, trentatré, trentaquattro, trentacinque, trentaquattro, brava Letty! Cami, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, guardate si tocca che non vedo, nove, dieci, undici, dodici, rimani squadrata dietro, tredici, quattordici, oh perché? ma potete andare avanti eh? Chi tocca? Mikol uno, due, le punte, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, mi dispiace Miky, rido perché mi hai fatto ridere eh? fada uno, due, tre, quattro, cinque, cinque però finito avete fatto tutte vince questa sfida oddio non mi ricordo più la Leti la Leti dov'è 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 si è nascosta dov'è ha un buon no ha un buon ho sbagliato brava brava Leti ti fa male gli addominali ma scusa tu hai detto che è difficile ma nei fatti 34 non è difficile per te ma si proprio devi fare la gran volta tu ci passavi che forza speriamo che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale lasciate tanti like ciao ciao hai fatto fatica a fare il suo esercizio? penso che però quella che ha fatto più fatica la fattina ma perché? non ho capito anche come si faceva perché è complicata ho capito ciao ciao ciao